Tutti questi sono solo schemi, ma possono aiutarci a comprendere e a scendere un po' più giù. Chi siamo noi? Siamo sostanzialmente un'infinità di cose, siamo l'infinito, però dobbiamo definirci. Allora, già per definirci come esseri umani, mettiamo dei limiti. In realtà questo continua all'infinito, ma noi dobbiamo vedere una retta, perché noi l'infinito, la nostra mente non può gestirlo. Allora mettiamo dei punti, che chiamiamo massimo e minimo. Per capirci sempre come esempio, come minimo mettiamo uccidere, ok? Togliere la vita a un altro essere umano diciamo che è proprio la cosa peggiore che possiamo fare. Ci siamo? Fissiamo questo qua. Qui che mettiamo? Amore incondizionato e totale. Dare la vita per un'altra persona. Quindi sacrificare la propria vita per salvare qualcun altro. Come simboli li prendiamo, ok? Donare la propria vita. Non c'è amore più grande che dare la vita per gli altri. Prima vi ho chiesto, chi di voi è in grado, è in grado di uccidere? No, no, no. Chi di voi darebbe la vita per gli altri? No, non siamo in grado. Perché questo? Perché ancora meglio noi ci vediamo nel mezzo. Ok? Vediamo una piccola parte che è accettabile per noi. Io sono bravo, studioso, diligente, onesto, ogni tanto rompo pure un po' le scatole agli altri. Ok? Questo sono io. Che fine fanno gli altri pezzi? Eh? Vanno sugli altri. Vanno sugli altri. Proiezione. Sia positiva che negativa. Tutto ciò che è al di sotto di quello che io posso accettare di me e diventa mio compagno, la mia compagna. Ok? Il mio professore o la mia maestra piccola. I miei genitori. Wow! Loro avevano tutte come coppia. Avevano tutte queste caratteristiche. Quelle che vanno dal punto massimo che mi riconosco. Cioè io al massimo non sono eccessivamente altruista. Questo è il massimo che vedo di me da questo lato. E tutto il resto però esiste. Esiste infatti, ma esiste nel mondo. Esiste negli altri. Poi chi ce l'hanno? La falsità. No. Chi ce l'ha la falsità? Un classico dei classici. L'ho scoperto negli anni. Lavorando proprio con tante tante persone. La falsità e l'incoerenza a chi vengono, su chi vengono proprio proiettate. Al di là di giusto, non giusto, non diamo giudizi di valore. Sui sacerdoti. Per chi è vissuto in una cultura cattolica, il prete diventa... Ah sì, perché è facile parlare. Parlare in un modo, però poi l'ho visto quello che fa. Però poi lui non si vede. Tutto questo accanimento. Ok? Lasciate perdere la particolazione. No, ma perché ci sono... C'è di tutto nel mondo. Ma perché ho bisogno di dire proprio loro che vogliono fare i buoni? Che cosa sto proiettando? La mia incoerenza che vorrei essere l'amore incondizionato. Mi ritrovo ogni giorno a confrontarmi con comportamenti che non sono quelli che io vorrei. E allora devo scaricare da qualche parte quella spazzatura. Il prete è perfetto. Ok? Perché proprio l'incoerenza... Ah, domenica parlava di gente. Gesù e ora lui ho visto che ha dato un passaggio a una donna ma secondo me quella donna ma hai visto come la guardava? Ok? Che sto facendo? Proiettando. Poi ti dicono però è vero che poi si è scoperto a un invento che il sacerdote aveva una relazione. Ma infatti lui non c'entra. Lui è solo lo schermo. Io non sto dicendo che lui è perfetto. Sto dicendo che proprio perché non è perfetto tu hai bisogno di vedere là l'imperfezione per non vederla dove? Dentro di te. E questa è la proiezione negativa. Dall'altro lato ok? Mettiamo amore lato amore a diversi livelli e con diverse sfaccettature quindi bravo degno di essere amato buono in grado di donare tutte queste cose dove vanno a finire su o simboli uomini uomini che poi diventano simboli quindi non lo so Gandhi Mandela Gesù ok? A che serve la proiezione positiva? Mai sentite una frase ma io non sono mica Gesù? Serve proprio per dire no questa parte quella la migliore la parte divina non è roba mia che pretendi da me sono mica Madre Teresa ok? Poi che cosa può succedere? Che se non sono dei simboli quindi persone fuori dalla tua vita ti scegli qualcuno o per la coppia e quindi hai quelle coppie con una dipendenza emotiva bestiale perché vedi nell'altro tutto il pezzo che ti manca com'è lui? Lui è buono generoso intelligente simpatico una persona accogliente cura sempre gli altri non trascura mai se stesso è giustamente premuroso ma mai troppo presente non invade ma c'è quando sentite queste descrizioni state qua cioè state parlando di un ideale avete preso una persona e dice salve mi chiamo Gian Gilberto ciao Gian Gilberto ti posso proiettare addosso tutte le qualità migliori di puoi fare così con la maglietta bianca in modo che si vede bene e Gian Gilberto diventa l'essere perfetto o Gian Gilberta è lo stesso infatti nei primi momenti della coppia l'altro è tutto è tutto ok? Poi piano piano scopri che ti ha ingannato ma ti ha ingannato sarebbe per il lavoro che stiamo facendo oggi giusto rigirare e dire mi sono ingannata e in più questo è sottile però lasciatela là che poi ci vuole una vita per comprenderlo io ho ingannato Gian Gilberto però lasciatela là non ve la spiego questa ok? se non la punto su Gian Gilberto va a finire a chiunque amici mia cognata vi ripeto io tutte queste cose non le studio le ascolto tutti i giorni facendo un sacco di incontri con le persone eh no io mia cognata lei davvero sa curare la casa in più lavora in più è perfetta ok stai proiettando su tua cognata tutto questo tra l'altro tua cognata gioca a fare la perfetta quindi c'è un incastro relazionale là ok lei la cognata è quella che arriva e dice ah ho portato io da mangiare poi i miei figli scusate hanno messo la prima cosa che hanno trovato i figli sono perfettamente vestiti lucidi lavati però un attimo devo mandare un'email perché nel frattempo sto gestendo un piccolo contratto da 2 milioni di euro e ho la Ferrari che ho lasciata dal meccanico ok e tu dici wow ma tu conosci quella persona quella persona si sta facendo un mazzo incredibile scusate il tecnicismo per tenere quella maschera davanti a tutti ma sapete che sofferenza c'è in una persona che fa questo semplice quello che vi ho detto se io vedo una persona che entra e dice queste 4 cose la abbraccio e dico tranquilla no non sto scherzando dico tranquilla rilassa va tutto bene non ti preoccupare puoi anche sporcare la camicetta dei bambini e ti regalo una 500 e vedi che tu sei facciamo cambi ti do la mia 500 e tu mi dai la Ferrari e vedi che tu tu non cambi sei ancora più bella di come sei adesso e vedete che quelle persone si sciolgono proprio quando quando e se hanno voglia e ci riescono si sciolgono e ti dicono grazie perché loro fanno una fatica bestiale a mantenere la maschera ok e tu ci caschi perché hai bisogno di vedere tutto quello che tu non sei tutto quello che ti manca ditemi se è chiaro questo con il lavoro che faremo andremo a lavorare su questo però dovete essere disposti a vedere di qua e di qua ed è anche semplice proprio semplice vuoi uccidere? no la risposta se non se non volete è no però saresti in grado e sì perché dovete pensare vita contro vita se qualcuno sta sparando a voi voi sparate per prima si chiama istinto di sopravvivenza ok se qualcuno sta per uccidere mia figlia io sparo ma non vi sto dicendo forse chissà bisogna trovarsi nella situazione io so che il dito va da solo poi me la pago mi pento mi sento in corte dovrei lavorare sicuramente realizzerò poi però io sparo ok pure tu ah sì sì vedete come c'è questa parte se mia figlia sta morendo io darei la vita ok lo senti dentro lo senti che se sei in quella situazione in cui o lei o tu molto probabilmente lo fai io personalmente ne sono sicuro però mai essere sicuro di cose che non hai vissuto quindi ci sono quelle parti ma noi dobbiamo guardare il nostro piccolo orticello e vivere una cosa che si chiama sofferenza perché la vita è troppo ristretta guardate come scrivere in punta di piedi ok la nostra piccola bolla guardare a noi con questi limiti io sono questo ma non questo ma non troppo sì però sto più spostato verso il cattivo meno verso il buono siamo tutto tutto ok grazie a tutti